Questo era l'obiettivo fondamentale, di togliere di mezzo il sentimento di angoscia dei lavoratori e un gesto di violenza da parte dell'azienda, di togliere di mezzo, di derubricare qualcosa che è inaccettabile per noi, quello che è stato definito una scelta irrevocabile. Da oggi siamo nelle condizioni ai tavoli tecnici di approfondire tutte le questioni che il gruppo Bridgestone ci propone chi ha cominciato a rappresentare a noi e alle forze sociali e a cui tavoli noi cercheremo di dare a tutti i livelli dallo Stato centrale alle sue articolazioni periferiche una risposta positiva affinché Bridgestone possa vivere e addirittura rilanciarsi. Questo è l'obiettivo della Regione.